Cari signori, ho il piacere di mostrarvi, di intervistare il grande lacchi, Luciano Di Meo. Caro Luciano, come mai ti trovi qua? Innanzitutto voglio dire la mia provenienza dall'Alto Casertano. C'è un'azienda denominata una serie dei trianelli, dove cerchiamo di recuperare la biodiversità sia vegetale che animali. Sono venuto a Valla della Lucania per visitare dei miei colleghi che stanno cercando, stanno lavorando sulla biodiversità sia vegetale che animale. Però prima di intraprendere questa tua lotta per il recupero della biodiversità e delle tradizioni dell'Alto Casertano, tu conducevi un'altra esistenza. Vuoi spiegare ai nostri amici di che si tratta? Allora, io provengo direttamente da una famiglia di contatini, agricoltori incalliti, però io ho attraverso un'altra carriera, una carriera musicale, strumentista, poi come discogioco, poi come direttore di palco, insomma, il Rai. Direttore di palco? Il Rai. Ma dove? Chiaramente ho fatto un tipo, festival di Sanremo, Cantagiro. Quindi tu dirigevi il palco a Sanremo negli anni 80 e 90, è così. E poi hai partecipato al Cantagiro, sempre come direttore per la Rai. Ma io volevo sapere, ma che significa fare il direttore di palco? Perché non tutti sappiamo che significa fare il direttore di palco. Il direttore di palco è responsabile dell'entrata e dell'uscita degli artisti e anche dei posizionari, strumenti e altre cose sul palco. Scicaletta, agibilità di palco. Ho capito, ho capito, ho capito. Quindi è un lavoro molto impegnativo, molto, diciamo, che richiede molta attenzione ed anche intelligenza della situazione, voglio dire. Se devi dire come stare sul palco, devi capire tutta la situazione. Va benissimo. E com'è che tu poi te ne sei andato dalla Rai, hai lasciato di fare sto lavoro? No niente, è venuto a mancare la presenza di mio padre nell'azienda. Io ho questa azienda abbastanza grande, insomma. Di come estensione ho intrapreso la carriera come alleatore di suino, di razza casertana, e di mucche bianche del Marchese. Sono delle mucche particolari che si usavano nei tempi più antietro, dove sostituivano il trattore, insomma, chiaramente. Ho capito, ho capito. Girano storielle sul tuo conto, una delle quali dice che tu ti incazzi molto quando qualcuno definisce il maiale di razza casertano il maiale nero casertano. Tu che mi dici? No, perché chiaramente il vero, diciamo, suino di razza casertano non è nero, ma è grigio-ardessia. È grigio-ardessia? Grigio-ardessia, perché è nero, si vede chiaramente che viene accoppiato da un altro tipo di razza. Ma io l'ho chiamato sempre maiale nero, non ho colto questa sfumatura, anche perché sono discromatopsico e quindi non colgo le sfumature. Bene, ma tu hai un stand qua? No, 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 non ho un stand, ho degli amici che spungono dei prodotti, diciamo, antichi di una volta come maggiori, come grano e altre cose. Bene, ti ringraziamo, sei stato molto gentile. Signori, vi invito alla masseria dei Trianelli per assaggiare quello che fa il grande Laki, Luciano Di Meo.